...della sesta corsa, ancora una gentleman, sono rimasti 9 al via, 1 Yarno Serial, 4 Looper Box SM, 5 Overwise S, 6 Maverick, 7 Igor Dasolo, seconda fila con l'otto Magnifica Idea, numero 9 Oriono M, 10 Mascernamo, 11 Oceanopi, non sono della corsa, numero 2 Oasis Staff e il 3 Lambertrio che risultano ritirati. ...lotta in partenza con Igor Dasolo che spinge la macchina e cerca di sopravvanzare il numero 6 Maverick di No, operazione che si concretizza poco prima del lancio in 13,9 per l'esattezza. ...prende vantaggio Igor Dasolo, alle sue spalle è sempre il numero 6 di Maverick di No, poi lungo la corda Yarno Serial, all'esterno avanza il 4 Looper Box SM, 400 chiusi in 28,4, un primo quarto molto veloce, si mette in azione, dalle retrovie il numero 9 Oriono M in anticipo su Overwise S. ...Igor Dasolo chiude i 600 in rallentamento in 44,7, frazione in 16,3 con Overwise S che scavalca l'Uper Box SM e cerca di portarsi a diretto contatto del leader, terza per gli esterno per Oriono M. ...800 con il leader che ha potuto rifiatare, un'altra frazione in 15,7, un minuto e quattro decimi il mezzo miglio iniziale con Igor Dasolo che deve respingere adesso l'attacco di Overwise S. ...Lungo la corda segue Maverick di No, chilometro chiuso in 1,14,8, 14,4 di frazione per Igor Dasolo e Cristoforo Chianese che cercano di respingere l'attacco di Overwise S che sembra viaggiare meglio all'esterno. ...e sta già sopravvanzando l'avversario, Overwise S, si volta Leonardo Vastano che controlla l'avanzata all'esterno del numero 9 dello schieramento. ...Oriono M calato inesorabilmente Igor Dasolo, passa Overwise che dovrà vedersela adesso da Oriono M, si unisce la lotta anche Maverick di No, retta d'arrivo con Overwise S. ...che è attaccata all'interno da Maverick di No, Maverick di No, trova Varco Popizzi all'interno, all'esterno anche a Oriono M. Maverick di No, numero 6, Sandro Muscolini per il training di Antonio Storti, va ad affermarsi in questa sesta corsa, secondo posto per Oriono M al terzo Overwise S. ...e due minuti e due decimi da distanza, 45 e 6, 600 conclusivi, è passato in retta d'arrivo Overwise S sul calo drastico di Igor Dasolo. ...ma nulla ha potuto di fronte all'attacco interno di Maverick di No che con il minimo sforzo porta a casa una bella vittoria con Overwise S che deve arrendersi anche per il posto d'onore ad Oriono M. ...tradotto in numeri 6, 9 e poi al terzo posto in numero 5. ...quitt...